Permesso? Posso? Ciao Luna, ciao, ciao. No, 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 Luna, fermati. Mettiti lì così, dai. Guarda, dobbiamo insegnare a tutti come si saluta. Gomito destro. Gomito sinistro. Gomito destro. Stai a tre metri da me? Ecco, bellissimo. Allora, ciao a tutti. Questo non è un gioco, anche se lo facciamo in maniera scherzosa. Propongo questo tipo di saluto perché così conciliamo la sicurezza con la possibilità di anche essere un poco allegri di non subire psicologicamente questa situazione.